La terapia cellulare avanzata sono concretamente i linfociti, cioè le cellule immunitarie del paziente, che raccolti mediante una leucoferesi vengono manipolati per esprimere, per armarsi contro il tumore attraverso un recettore che si chiama CAR. Queste cellule vengono iniettate al paziente dopo una chemioterapia e esercitano un ruolo diretto, tossico, di killing nei confronti del tumore stesso. Oggi questa terapia è disponibile per pazienti con linfomi aggressivi, con leucemia linfoblastica e molto a breve sono già autorizzate, utilizzi anche nei confronti del linfoma mantellare e nei confronti del mieloma multiplo. In questi tumori i linfociti armati con il CAR, cioè i CAR-T, si sono dimostrati efficaci nell'era di CAR, cioè nel guarire definitivamente malattie che erano risultate totalmente resistenti alle frattarie e comunque altre forme di chemioterapia. Oggi questa terapia CAR-T rappresenta quindi non solo una realtà per questi pazienti, una speranza a breve per pazienti con mieloma e altri linfomi e molto nel breve termine anche applicazioni nei tumori solidi ci permetteranno di capire se anche in queste forme di malattie spesso resistenti potremo ottenere lo stesso risultato di guarigione.